Risolta, almeno per il momento, la lunghissima querela con il Palermo. Dopo la finale play-off di sabato scorso, il Frosinone volta pagina e guarda al futuro. Il campionato di Serie A, che vedrà ai giallo-azzurri i protagonisti per la seconda volta nella storia, impone una giusta e necessaria programmazione. L'obiettivo è conquistare la salvezza e garantirsi la permanenza nel calcio che conta. Il tempo stringe e nei prossimi giorni ci incontreremo con la società ed il presidente, ha dichiarato il tecnico Moreno Longo, intervenuto nel corso di kick-off. I play-off hanno ritardato una normale programmazione, c'è bisogno di capire quali saranno le strategie da adottare per la prossima stagione che deve essere programmata nel migliore dei modi. Il Frosinone dovrà essere all'altezza della Serie A, non solo per lo stadio e per l'organizzazione societaria, ma anche sul campo, ha dichiarato invece il direttore sportivo Marco Giannitti. Le neopromesse fanno sempre fatica in questi ultimi anni ed anche noi, dalla precedente esperienza, abbiamo capito le difficoltà che si possono incontrare. In attesa del primo vertice di mercato tra il presidente Stirpe ed il tecnico Giallo-Azzurro, il Frosinone ha piazzato i primi colpi in entrata. Da Benevento è arrivata la comunicazione ufficiale della stessa società sannita che ha annunciato l'addio a Rahman Chibza. Il centrocampista ganese, ceduto lo scorso gennaio con la formula del prestito con obbligo di riscatto, passa quindi ufficialmente al Frosinone a titolo definitivo. Con la stessa formula diventano a tutti gli effetti giocatori di proprietà della società giallo-azzurra anche Andrea Beghetto, Luca Krainch e Francesco Bardi. Quattro acquisti formalizzati con la matematica promozione in Serie A del Frosinone che nelle prossime ore dovrebbe procedere anche all'allungamento dei contratti dei cinque giocatori scadenza il prossimo 30 giugno. Massimo Zappino ed Alessandro Frara sono i due senatori del gruppo. Entrambi hanno già un accordo di Massima per proseguire ancora un'altra stragione con l'avventura in ciociaria. Discorso simile anche per Mauro Vigorito, portiere titolare nel girone di ritorno e nelle quattro partite di play-off per Adriano Russo e per Roberto Crivello. Grazie a tutti.